Ehi, iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Quando gli dicono che passa Gesù, il cieco non dice subito guariscimi, ma semplicemente dice, Gesù, abbi pietà di me. Notate, anche il buon ladrone non chiede a Gesù, portami in paradiso. Dice a Gesù, ricordati di me nel tuo regno. Quanto umiltà in questa preghiera, nella preghiera del cieco e nella preghiera del buon ladrone. Anche lui, Gesù, vogliamo dirti, abbi pietà di noi. Abbi pietà della nostra piccolezza. Abbi pietà delle nostre fragilità. Abbi pietà, oh Signore, delle nostre paure. Guarisci dentro di noi, guarisci le paure che abbiamo dentro di noi, guarisci le fragilità, guarisci, Gesù. In questo momento, tu stai passando in tante direzioni, stai attraversando tanti sentieri, stai entrando in tante case, stai entrando, è accanto a voi. Sappiate che Gesù vi passa accanto, invocatelo. Gesù, Gesù, abbi pietà di me. Gesù, ricordati di me nel tuo regno. Gesù, Gesù, tu puoi guarirmi. Tu puoi riempire di pace il mio cuore. Tu puoi riempire di gioia il mio cuore. Gesù, abbi pietà di me. Gesù, 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 Gesù. Gesù, 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 Grazie a tutti